Sono venuto a Bagnaia e ho comprato una villa Talmente bella che non mi ricordo neanche il nome E' incredibile Questo è il giardino della mia prossima casa Ok, dopo aver conquistato Villa Lante Adesso inizio a farvi vedere il giardino, la villa Insomma, un po' di stanze Quindi sono contento di portarvi per la prima volta in questo grandissimo home tour Venite con me Questa è una delle parti del giardino che si trova proprio al di sotto dell'ingresso della villa Dove come avete visto c'è dell'arte enormemente bellissima sul soffitto Per non parlare di quello che sta sulle pareti Comunque adesso incominciamo il nostro giro incredibile E sono veramente, veramente contento di portarvi a Villa Lante La casa di Vita in Viaggio Allora, questa qui che si vede alle mie spalle è deciso che sarà la zona barbecue Qui che è la mia spalla ho deciso che sarà la zona barbecue Oh ma ce la faccio In questa fontana qui ho deciso che potrete venire qua a mettere comodamente le vostre monetine Per lasciarmi delle offerte Giusto perché l'ingresso sarà libero Io organizzerò feste, eventi Però se qualcuno vuole venire qua e esprimere un desiderio e lanciare una monetina Perché non farlo? Certo c'è da dire che devo un po' investire soldi e sistemare il giardino Anche perché i giardinieri ultimamente non sono venuti Sono rimaste ancora delle foglie dell'autunno scorso Per sistemare un po' la passeggiata Così che nessuno di voi che mi viene a trovare si faccia del male Ecco Questa zona invece sarà adibita agli aperitivi Dato che siamo molto vicini a una fontanella Che tra poco vi faccio vedere E comunque mi sembra che sia abbastanza grossa per ricevere di tutti quanti E poi c'è come sempre un po' d'arte Quello che in casa mia non può mancare Certo ci sarà da aggiungere sedie Mentre qua dopo che avete bevuto nella sala aperitivo Potete venire qua e da Uber gli archi buttarvi in questa fontanella Se vi divertite con così poco Non ve lo dico neanche ma questo sarà lo scivolo Che vi porterà direttamente all'interno del giardino Che tra poco vi faccio vedere Guardate quanto è bella questa stanza E pensate che questa stanza sarà adibita ad un campo bellissimo da bowling Infatti qui ci farò proprio una pista da bowling Adesso devo sistemare un attimo la pagamentazione Però comunque sappiate che diventerà una bellissima stanza da bowling Dove potete venire a giocare tutti quanti Mentre questo giardino incredibile ma vero Verrà adibito ad una pista gigantesca di biglie Infatti qua si faranno i mondiali campionati di biglie Da tutte le parti del mondo Tutti i campioni mondiali di biglie Verranno qua a esibirsi per una gara fantastica Il cui premio sarà una settimana Totalmente pagata da me all'interno di Villa Lante La mia nuova viva E anche questo video finisce qua Spero che la mia nuova villa vi sia piaciuta E io vi aspetto tutti quanti insieme Però mi raccomando Tampone, Green Pass, vaccino Insomma tutti ben coperti Alla prossima Alla prossima Alla prossima